E' in corso il Consiglio dei Ministri che oltre a completare la squadra di governo con i sottosegretari e i viceministri varierà le prime misure dallo stop all'obbligo di vaccinazione per i sanitari, al rinvio della riforma cartabia e il mantenimento dell'ergasto allo stativo fino all'ordine pubblico, tra le priorità l'individuazione delle risorse per fronteggiare l'emergenza a bollette, ma le relative misure saranno varate in un prossimo CDS. Segno più a sorpresa per il PIL italiano nel terzo trimestre. L'Istat certifica una crescita dello 0,5% sul trimestre e la crescita già acquisita per quest'anno sale così al 3,9% contro il 3,3% indicato dalla Nadef. Fase di grande incertezza, ci vuole prudenza su estime, avverte il governatore di Banca Italia, Visco. Il ministro dell'economia, Giorgetti, conferma l'impegno del governo per ridurre deficit e debito e proteggere le famiglie dagli effetti dell'inflazione. Dare ragione ai negazionisti del Covid è il peggior inizio possibile per il governo Meloni. Enrico Letta boccia le prime scelte annunciate dalla neopremier puntando il dito anche sul tetto al contante. Così non si aiutano artigiani e commercianti, ma si diventa più tolleranti con la piccola e media evasione. Ancora polemiche sul 25 aprile, mentre Conte avverte. Ci aspettiamo parole chiare anche sulla sfigata di 2.000 camice nere a Predappio. Concluso senza tensioni, il reparti di Modena grazie alla trattativa tra le forze dell'ordine e i partecipanti, oltre 3.500 da tutta Europa. I ragazzi hanno lasciato, dopo averlo ripulito, il capannone pericolante che ora sarà sequestrato. La svolta, dopo l'ordine di sgombero del ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in CDM chiederà norme restrittive sui raduni non autorizzati. Nuovo massiccio attacco russo alle strutture energetiche ucraine. A Kiev i missili lanciati questa mattina hanno lasciato senza acqua l'80% della popolazione. E' interrotto la fornitura elettrica a 350.000 case. Intanto 12 navi di grano sono partite dal paese, nonostante la Russia si sia ritirata dall'accordo. Altre 170 sono bloccate. La Turchia e l'ONU mediano per il ripristino dell'intesa. Lula da Silva, dopo 12 anni, torna a guidare per la terza volta il Brasile, dopo aver sconfitto per poco più di 2 milioni di voti il presidente Uscente Bolsonaro, che non si è ancora congratulato con il vincitore. Hanno cercato di seppellirmi vivo, ma sono risorto, ha detto Lula, invocando ora pace e unità per governare un paese che resta profondamente diviso. Il Milan cade a Torino, interrompendo una striscia di imbattibilità esterna che durava da 17 partite. Finisce 2-1 per i Granata. Pioli adesso scivola a meno 6 dal Napoli. Riparte l'Atalanta, che vince ad Empoli ed è seconda. La Lazio, sconfitta a sorpresa l'Olimpico dalla Salernitana, nella settimana che porta al derby della Capitale. La Roma oggi a Verona, in serata Monza-Bologna. Una buona giornata dal telegiornale della Sette. Dunque un lunedì molto importante dal punto di vista politico, perché di fatto ci apprestiamo a raccontare e a condividere i contenuti di quello che è il primo consiglio dei ministri davvero operativo, dopo quello di insediamento del nuovo governo a guida Meloni. Tanti punti, innanzitutto il complesso della squadra da definire con la lista anche dei viceministri, dei sottosegretari e poi tanti temi sparsi ma tutti importanti. Alcuni che hanno accompagnato anche questa vigilia con una serie di tensioni e anche voci che si rincorrevano. Il capitolo in primo piano, lo vedremo nel corso del telegiornale dell'ordine pubblico, il capitolo giustizia, tutte le sfide dell'economia e anche la gestione della pandemia. Cominciamo da qui. Arrivi in corso a Palazzo Chigi per la prima riunione operativa dell'esecutivo che in settimana potrebbe già fare il bis. Nell'agenda di oggi infatti c'è la squadra di governo, necessario completarla con i nomi di sottosegretari e viceministri per evitare ulteriori fibrillazioni. Ma soprattutto figurano nell'ordine del giorno passi identitari su giustizia e covid. La partita più delicata per il governo, quella del caro Bollette che ieri il premier Meloni ha indicato come assoluta priorità, resta fuori dall'agenda ufficiale. Necessario infatti, dopo aver reso operativa la squadra con deleghe sottosegretari, avere un'istantanea nitida dello stato dei conti, vedi dati sul PIL oggi migliori delle aspettative e attendere il ritorno di Giorgia Meloni dalla prima trasferta ufficiale a Bruxelles giovedì, nella quale incontrerà i vertici europei con un primo focus su risorse a disposizione ed eventuali possibilità di sforare. Così sul tavolo del governo c'è la discontinuità sul covid che ha fatto già storcere il naso ai forzisti e prevede l'anticipo a domani della decadenza dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, anche se dopo il pressing delle ultime ore dovrebbe restare l'obbligo di mascherine in ospedali a RSA. Sul fronte giustizia due segnali chiari, un decreto sul cosiddetto ergastolo stativo per anticipare un'eventuale decisione della Corte Costituzionale che si dovrebbe riunire l'8 novembre ed impedire che possano accedere ai benefici carcerari mafiosi che non si sono pentiti. Passo che registra la sintonia dei 5 Stelle di Conte, bene il ravvedimento, dice alla Meloni, su posizioni opposte più Europa e Terzo Polo che tirano in ballo il ministro Nordio Silente in questi giorni con i penalisti saliti sulle barricate contro l'inasprimento che bocciano già come incostituzionale il decreto in arrivo. Ma c'è anche il rinvio di due mesi dell'entrata in vigore della riforma a Cartavia sul processo penale. Inizialmente si era parlato di uno slittamento tecnico ma, visto che per ridurre il numero dei processi la riforma prevede che una serie di reati minori non siano perseguibili d'ufficio, l'esecutivo potrebbe modificare questo passaggio per evitare il rischio dell'effetto svuota carceri e mostrare il pugno di ferro sulla microcriminalità. Ma, enfatizzano dal PD, il cambio di passo sulla riforma rischierebbe di far saltare i fondi del PNRR. A pesare invece sugli equilibri interni il pressing sui nomi da fare entrare nella squadra di sottogoverno che dovrebbe essere completata oggi per evitare che tensioni e ambizioni frenino l'azione dell'esecutivo. Che insomma, tante sfide da affrontare, naturalmente in primis quella legata all'economia, il quadro economico aggiornato nelle ultime ore dagli ultimi dati Istat su PIG e soprattutto sulla crescita che continua anche se decelera. Questa è una fase comunque in cui serve grande prudenza soprattutto sulle stime, così il governatore Visco. E poi ancora le parole del ministro dell'economia Giorgetti che ha detto, ribadendo un concetto peraltro espresso questa mattina dal nostro presidente della Repubblica, che i risparmi delle famiglie vanno protetti dall'inflazione. Naturalmente ci sono all'orizzonte anche i fondi del PNRR che inducono il ministro dell'economia comunque all'ottimismo. Nettamente meglio del previsto. Il dato più atteso dal nuovo governo lascia ben sperare. Nel terzo trimestre del 2022, secondo l'Istat, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% in termini tendenziali. L'ufficio parlamentare di bilancio solo dieci giorni fa stimava una meno 0,2% per il periodo e per tutti gli analisti economici la crescita sarebbe stata pari a zero. È vero che rispetto al trimestre precedente c'è comunque un rallentamento, ma il segno più vuol dire che la fase espansiva del PIL e la variazione della crescita già acquisita per il 2022 al momento si attesta al 3,9%. In sostanza il governo Draghi ha lasciato un maggior margine di manovra e dovrebbe essere più facile quindi per il nuovo esecutivo trovare le risorse attraverso un intervento sul deficit che per il 2023 potrebbe essere fissato al 4,5% venerdì. Il Consiglio dei Ministri lavorerà all'integrazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, la cornice entro la quale andrà scritta la prima finanziaria del governo Meloni che dovrà rispettare le promesse elettorali a partire dagli aiuti contro i rincari energetici e l'indicizzazione delle pensioni sui tassi dell'inflazione. Obiettivi complicati, il rientro dal deficit resta sempre una priorità per la Commissione europea che deve reintrodurre le regole di bilancio sospese per la pandemia. Le prime reazioni al dato positivo del PIL sono arrivate dalla giornata del risparmio celebrata oggi a Roma. È un segnale provvisorio arrivato grazie al settore dei servizi e del turismo, ha detto il governatore della Banca d'Italia Visco. Un aumento automatico che con la grande incertezza attuale deve spingere alla prudenza. Infatti il ministro dell'economia, Giorgetti, non si è sbilanciato. Il nuovo governo è orientato a confermare il proprio impegno per i prossimi anni, a ridurre il deficit della pubblica amministrazione e il rapporto debito-PIL ha detto, sottolineando anche che resta comunque l'attuazione del piano di ripresa e resilienza lo strumento principale per guardare con ottimismo alle prospettive di crescita dell'economia. Dicevamo che è un lunedì importante in cui naturalmente si entra nel vivo, anche si comincerà a capire nel dettaglio in che direzione ci si orienterà dal punto di vista del nuovo esecutivo per materie importanti. Sicuramente non è passata inosservata la linea che si intuisce, quella sul Covid, la gestione della pandemia, la fase dell'emergenza, ma anche rispetto al passato, quel che c'è stato di illeciti e di irregolarità in una fase molto dura del nostro paese. Dura sono state le parole del segretario Dem Letta proprio su questo nuovo atteggiamento che filtra nei confronti anche dei negazionisti del Covid. Non è l'unico tema divisivo, naturalmente, dal punto di vista delle opposizioni. Finisce nel mirino. Dare ragione ai negazionisti del Covid è il peggior inizio possibile per il governo Meloni. Enrico Letta boccia con nettezza le prime scelte annunciate dalla neo-premier della destra. Mi fanno paura, dice. L'emergenza non è ancora passata, afferma il segretario Dem, ricordando anche le parole del presidente Mattarella. Inaccettabili, pertanto, le ambiguità sui vaccini. È come se per Meloni, argomenta Enrico Letta, le decisioni degli ultimi anni fossero state di parte, non la conseguenza inevitabile di una pandemia che travolgeva il pianeta. Scelte, aggiunge il leader del PD, che sono state prese da governi molto diversi tra loro, da quello giallo-rosso a Guida Conte, all'esecutivo di Mario Draghi. Ma non ci sono soltanto i provvedimenti sulla gestione del virus a preoccupare il Partito Democratico. Il governo sarà giudicato sui fatti, ma per ora non parte bene. A scandire l'elenco delle contraddizioni è la demma lì a quarta pelle. Via le mascherine da ospedali RSA, via il tetto all'uso del contante, rinvio della riforma della giustizia penale con seri rischi per il PNRR, il piano di riforme da cui dipendono i fondi europei. Con più contanti in circolazione non si aiutano artigiani e commercianti, insiste Letta, ma si diventa più tolleranti con la piccola e media evasione. E questo avrà un effetto immediato sui conti pubblici, avverte il segretario, producendo minori entrate. Quanto agli scontri tra studenti e polizia all'Università La Sapienza di Roma, mi aspetto tutti i chiarimenti, aggiunge, necessario, ora più che mai per Letta, abbassare la tensione, evitando il muro contro muro. Gravi invece per il segretario PD le dichiarazioni di ieri di Ignazio Larussa sul 25 aprile. Oggi ha un ruolo diverso e seconda carica dello Stato, e dunque anche supplente del Presidente della Repubblica. Non cerchi alibi e la replica sulla partecipazione alle celebrazioni, ricorrenza che oggi il Presidente del Senato dice di voler onorare nel segno dell'unità. Giudicheremo il Governo dai fatti e anche la linea ribadita dal Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, ma con molti distingo sul Covid il leader pentastellato esorta Meloni a non affrontare con pregiudizio demagogico un'eventuale recrudescenza del virus. Conte apprezza il ripensamento sull'ergastolo stativo da parte dell'esecutivo e la nuova linea di fermezza e rigore annunciata dal Ministro Piantedosi in materia di sicurezza e ordine pubblico, da reparti di Modena agli scontri alla Sapienza. Ma ammonisce Conte. Ci aspettiamo una parola chiara anche sulla sfilata di 2.000 camicie nere a Predappio, labile la linea di confine che divide la nostalgia dall'apologia. Ecco appunto, andiamo allora a Modena a capire che cosa è successo da questa mattina. Sapete, alle porte della città c'era stato un raduno, un rave party, che aveva richiamato oltre 3.000 giovanissimi da tutta Italia e anche da tante zone dell'Europa. Naturalmente una situazione che aveva allertato le forze di sicurezza, anche perché quei giovani avevano scelto una struttura non considerata sicura. Ci sono state ore di grande tensione prima di arrivare a uno sgombero concordato, nel senso che i ragazzi hanno lasciato, stanno lasciando quella struttura in modo autonomo e pacifico. Vediamo di capire con il lavoro del nostro inviato che cosa è successo dunque nelle ultime ore. Alle 10 la musica è già finita, i ragazzi restano in zona, il rave party di Modena si ferma. Poco prima un gruppo delle forze dell'ordine aveva parlato con gli organizzatori e alcuni raver, tra le migliaia presenti. Basta qualche minuto per capire che la sicurezza era il motivo per fermare la festa. C'è stato qualche istante di tensione, gli agenti hanno spiegato di non volere entrare, ma era necessario abbandonare l'aria, vola solo qualche urlo. Poi i ragazzi accettano, fine della trattativa, non c'è nessuno sgombero. La musica è finita, il rave è finito. Sì, ma la festa comunque siamo noi, quindi la musica continua sempre. Il posto io lo vedo bene, non c'è nessun problema, né di sicurezza, né niente adesso. E con la polizia tutto tranquillo? Sì, tutto tranquillo. Fuori l'area del Capannone, dove da venerdì notte 3500 giovani si sballavano con la musica elettronica, alcol e droghe, ci sono almeno 200 agenti a presidiare, qualcuno insulta e non è d'accordo, andate via, qui non c'è mica Saddam, grida un giovane sul ciglio di uno degli ingressi. I ragazzi vanno via la spicciolata, ripuliscono l'area come spesso accade in alcuni rave party, organizzati bene, il clima è tranquillo, dentro poco fa le immagini sono queste, i sacchi neri della spazzatura appoggiati alle colonne, nella penomba, tra la polvere, raggi di sole che filtrano dalle vetrate, ci sono solo alcuni mezzi, gli organizzatori portano via le casse, palchi smontati in poco tempo. A metà mattinata, dopo una notte intensa, la serata più bella, raccontano alcuni giovani, è ora degli arrosticini, la cosiddetta fame chimica, quella delle notti dove scorrono fiumi di alcol e stupefacenti. La proprietà del Capannone, consapevole dell'abbandono dell'immobile da anni e dunque della mancanza di sicurezza, sporto querela, oggi scatta il sequestro. Il primo esame del governo Meloni è per il Viminale, in una situazione molto delicata, è filato tutto liscio, solo oggi centinaia di ragazzi identificati, non ci sono stati interventi significativi del 118. È stato applicato quel protocollo annunciato dal ministro dell'interno Piante Dosi. E dunque, peraltro, notizia di pochi minuti fa, uno sgombero praticamente terminato, si sgomberano anche le tende del campo all'esterno di questa struttura, la musica che arriva in questo momento dai camper. Andiamo avanti al capitolo Covid, vi dicevo che nella giornata di oggi, anche su quel fronte, arriveranno le prime novità da parte del nuovo esecutivo, già messe nel mirino delle opposizioni, ma c'è anche una preoccupazione che è trasversale, che riguarda soprattutto le istituzioni sanitarie per la possibilità di abbandonare l'utilizzo delle mascherine, anche sull'obbligo della vaccinazione dei sanitari, si attendono le decisioni e la linea da non varcare, quella della prudenza da allentare. E peraltro queste considerazioni arrivano anche da regioni a guida centrodestra. Proprio la Lombardia, in queste ore, nelle ultime ore, ha deciso che comunque vada le mascherine all'interno delle strutture sanitarie dovranno essere comunque utilizzate. Occorre mantenere un elevato livello di attenzione. I medici dei pronto soccorso italiani si appellano al nuovo Ministro della Salute e collega, Orazio Schillaci, chiedendogli di mantenere in vigore quelle che in una nota definiscono le più elementari regole di tutela dei pazienti e degli operatori nelle strutture di medicina d'emergenza. Si chiede in particolare di non abolire da domani, così come è previsto, l'obbligo dei dispositivi individuali di protezione in pronto soccorso, dove scrivono patologie e fragilità si concentrano in una densità umana che non ha paragoni. Quello dei medici d'urgenza è in ordine di tempo l'ultimo appello all'esecutivo per attenuare quello che già con le scelte del Consiglio dei Ministri di oggi potrebbe essere un netto cambio di rotta sulla gestione della pandemia. Anche dalle regioni arrivano segnali indecisa contro tendenza rispetto alla linea dell'esecutivo. In Campania, il presidente PD, Vincenzo De Luca, ha già confermato con un'ordinanza l'obbligo delle mascherine negli ospedali e nelle RSA, sia per il personale sia per i visitatori. De Luca chiede anche al governo di prevedere l'obbligo delle vaccinazioni per il personale medico e infermieristico. Sarebbe inaccettabile, dice, costringere pazienti a farsi curare da personale non vaccinato. Anche nelle strutture sanitarie della Lombardia si manterrà l'obbligo di indossare le mascherine e l'indicazione arrivata poco fa dalla giunta regionale di centrodestra, Letizia Moratti, assessore alla sanità, ha anche detto di augurarsi che il Consiglio dei Ministri di oggi si esprima al riguardo seguendo la linea indicata dai nostri esperti. Critiche alle scelte annunciate dal nuovo esecutivo arrivano dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, per il quale la discontinuità sembra ridursi a un mero sbantellamento delle misure in atto e a una vera e propria amnistia nel tentativo illusorio di consegnare la pandemia all'obbligo. Tutto questo, conclude Cartabellotta, ignorando le raccomandazioni delle autorità internazionali di sanità pubblica. Andiamo ora al fronte internazionale e cominciamo dagli aggiornamenti che riguardano il conflitto in Ucraina. È stato un altro risveglio sotto gli attacchi russi per la popolazione di diverse città del paese. Manca l'elettricità, manca l'acqua in molte zone abitate e dunque c'è un fronte militare ma con grande preoccupazione si guarda anche al fronte legato all'approvvigionamento delle materie prime, grano in primis, con lo sfilarsi dall'intesa faticosamente ottenuta da parte della Russia le conseguenze che sono evidenti e il tentativo di mediazione che ci richiama ancora una volta all'opera della Turchia tuttora in corso. L'Ucraina fa i conti con una nuova notte di bombardamenti. Più di 50 missili in diverse ondate sono stati lanciati dai russi con il solito obiettivo le infrastrutture civili in particolare quelle energetiche. Diverse aree, centinaia di paesi e cittadini riporta il governo sono senza elettricità. L'80% della capitale Kiev oltre a non avere corrente è anche priva di approvvigionamento idrico. Il sindaco Vitali Grishko ha chiesto a tutti dove è possibile di fare scorta d'acqua e di aiutare chi non può procurarsene. La contraere Ucraina con i nuovi sistemi arrivati dagli Stati Uniti e dalla Germania ha comunque abbattuto a buona parte dei missili piovuti dal cielo. Uno dei razzi colpiti è finito oltre i confini andando a cadere in Moldavia. Non ci sono né bittime né danni. Dopo l'attacco alla flotta russa a Sebastopoli il mondo si trova a fronteggiare una nuova crisi del grano. La Russia avrà presto contatti con la Turchia e le Nazioni Unite per l'accordo sul grano ha comunicato ai Rudenko. Il dialogo però sarà riaperto solo dopo che tutte le circostanze dell'azione contro le nostre navi saranno chiarite ed il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si sarà riunito. Mosca accusa non solo l'Ucraina ma l'Occidente di avere preso parte all'operazione con esperti britannici che avrebbero aiutato a guidare i droni canadesi e armi che ne ha convinto il Cremlino sono entrate nel Mar Nero proprio attraverso le navi del grano. L'Occidente nega ogni coinvolgimento ma intanto bloccate dalla flotta russa ci sono più di 170 vascelli carichi di cereali che per ora non partiranno sono già in viaggio invece le 12 navi ucraine che hanno potuto prendere il largo grazie ai team di ispezione turchi e delle Nazioni Unite la conseguenza un brusco rialzo del prezzo del grano e mais alla borsa di Chicago con un balzo di 6 punti ed una nuova fonte di pressione inflazionistica sui carrelli della spesa delle famiglie a tentare di sbloccare la situazione nuovamente il presidente turco che promette il massimo impegno nonostante la chiusura russa la Turchia spiega Erdogan è risoluta a continuare i suoi sforzi per ripristinare in pieno l'intesa ed il passaggio delle navi Cotteggio alla mano 2 milioni di voti tantissimi per altri paesi non certo per uno enorme come il Brasile che svolta verso l'Ula è un terzo storico mandato per il leader della sinistra 12 anni in cui ha detto nelle ultime ore hanno provato a seppellirmi adesso deve ricostruire un paese anche ripartendo da un'unità mancata questo dicono i numeri perché all'altra metà del paese è andato la scelta nei confronti del presidente uscente Bolsonaro peraltro alle spalle ci si mette una campagna elettorale segnata da fortissime tensioni anche una serie di violenze i messaggi sono arrivati a Lula ma il compito più difficile inizia adesso viveremo un nuovo tempo di paese amore e speranza hanno cercato di seppellirmi vivo ma sono risorto sono qui per governare il paese in un momento difficile è tempo di deporre le armi ora c'è bisogno di pace e unità parla così il neorieletto presidente del Brasile Luis Ignacio Lula da Silva nel suo primo discorso dopo la vittoria col 59% dei voti al ballottaggio contro Jair Bolsonaro dopo 12 anni il leader della sinistra tornerà alla guida del paese per la terza volta il suo è un risultato storico dall'inizio del 2023 le prime sei economie dell'America Latina Messico Argentina Cile Colombia Perù e Brasile appunto saranno governate da presidenti di sinistra o progressisti La folla esulta e Lula assicura che sarà il presidente di tutti i brasiliani non solo di coloro che lo hanno votato poi però racconta di non aver ricevuto neppure una telefonata dall'avversario sconfitto battuto per poco più di due milioni di voti infatti il presidente uscente il liberale Bolsonaro non ha commentato i risultati pubblicati dal tribunale superiore elettorale e non ha affatto riconosciuto la vittoria dell'ex presidente l'uomo che 20 anni fa incarnò il sogno brasiliano l'ex sindacalista metalmeccanico che diede voce al popolo prima di finire in carcere per un'inchiesta su appalti e mazzette con una condanna che la Corte Suprema brasiliana ha poi annullato ha davanti a sé una sfida titanica scrive il quotidiano spagnolo del Paese ricostruire un paese gravemente fratturato di cui Bolsonaro nella sua costante e pericolosa polarizzazione ha deteriorato la qualità democratica oltre a far uscire dalla povertà 33 milioni di brasiliani e a tentare di salvare l'Amazzonia dalla distruzione totale dopo anni di abbandono da parte dello Stato e il disinvestimento degli enti di tutela Lula dovrà convincere la popolazione della necessità di unire le forze per avviare una ricostruzione nazionale il presidente degli Stati Uniti Biden plaude a elezioni libere e giuste e credibili e dice di voler lavorare al più presto con Lula per portare avanti una cooperazione tra le rispettive nazioni anche il presidente russo Putin auspica una collaborazione costruttiva con Lula la Cina è pronta una partnership strategica col Brasile dichiara il portavoce del ministero degli esteri Zhao Liu Zhang si dice ansioso di ampliare le relazioni bilaterali e la cooperazione su questioni globali l'ufficio del primo ministro indiano Narendra Modi così come a nome dei 27 stati membri l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Borrell e la presidente della commissione von der Leyen twittano il neopremier britannico Richie Sunak i presidenti francese Macron e ucraino Zielensky così come la neopremier d'Italia Giorgia Meloni per la pagina degli esteri andiamo a vedere le immagini che arrivano da una zona dell'India Gujarat c'era una festa religiosa un ponte sospeso che peraltro è stato chiuso per diversi mesi per lavori di ristrutturazione a quanto pare è riaperto in fretta quel che è successo è stata una strage con le persone che sono finite in acqua un bilancio di 140 morti e per ora nessun colpevole l'ultimo bilancio delle vittime del crollo del ponte in India supera i 140 morti e non è definitivo si spera ancora di trovare qualcuno in vita tra le acque mentre continua ad aumentare il numero dei corpi recuperati la tragedia è accaduta ieri sera poco prima del tramonto nello stato indiano nord occidentale del Gujarat dove in questi giorni si celebra il Diwali una delle feste religiose più importanti che simboleggia la vittoria del bene sul male secondo le autorità locali c'erano circa 500 persone tra cui molte donne e bambini sopra e vicino al ponte coloniale costruito 150 anni fa e riaperto solo mercoledì scorso al pubblico dopo sette mesi di restauro ma senza ancora il certificato di sicurezza mentre la folla era accalcata sulla struttura i cavi di acciaio che la sorreggevano non hanno retto ed è collassata intere famiglie sono precipitate nel fiume sottostante con il mio amico al momento del crollo eravamo bloccati in mezzo al ponte non ci potevamo muovere sta raccontando questo sopravvissuto ora il mio amico è morto un altro supersite ha riferito al quotidiano Hindustan Times di aver visto un gruppo di ragazzi saltare sul ponte per farlo oscillare ha gridato quindi ai giovani di smettere di stare fermi ma non lo hanno ascoltato probabilmente anche loro ha riferito il testimone sono rimasti vittime del crollo l'uomo ha fatto appena in tempo con la sua famiglia correre via neanche un minuto dopo il ponte cedeva sul fiume a lungo le persone precipitate hanno cercato di aggrapparsi ai rottami ai cavi spezzati per tirarsi fuori dall'acqua mentre i soccorritori cercavano nel buio di individuare i sopravvissuti il ponte di Giulto Pool era un'attrazione turistica sul sito ufficiale veniva descritto come una meraviglia dell'ingegneria costruita all'inizio del secolo scorso per questo era stato sottoposto a lunghi restauri che però non hanno impedito il collasso il governatore dello Stato ha aperto un'inchiesta e ha fatto incriminare gli addetti alla sorveglianza del ponte sono accusati di aver permesso l'accesso ad un numero troppo elevato di persone adesso torniamo in Italia e torniamo a quanto è successo sabato notte in una delle zone più centrali della capitale di Roma a Trastevere a Piazza Triunsa sono immagini riprese da un video pubblicato dal sito di Repubblica e vedete un gruppo di ragazzi probabilmente tutti minorenni ha preso a calci un senza tetto l'uomo che era probabilmente ubriaco stava facendo delle flessioni a terra a petto nudo è stato circondato dai giovani prima sputi poi calci fino a quando il ragazzo non è intervenuto per fermarli a quel punto è scoppiata una maxirissa nella piazza a quell'ora peraltro stracolma il clochar è stato soccorso dai sanitari portato in ospedale a 47 anni all'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi si stanno analizzando adesso i filmati delle telecamere di videosorveglianza nella zona a quanto pare il cerchio si stringe intorno a due ragazzi due giovani vestiti con giacca nera e felpa con cappuccio prima di fermarci per la pausa pubblicitaria il ricordo di Oler Togni che è morto ieri sera a Milano aveva 76 anni esponente della nota famiglia circense Oler divenne celebre negli anni 70-80 per aver introdotto dagli Stati Uniti gli spettacoli acrobatici con auto e moto show itineranti che girarono per gli stadi e i palazzetti d'Italia e di tutta Europa nel 1995 entrò anche nel Guinness dei primati per aver guidato un tir inclinato su tre ruote passo pubblicitaria torniamo con la pagina sportiva tra poco di noi insieme ricominciamo la pagina sportiva il campionato di calcio innanzitutto una dodicesima giornata che si deve ancora concludere stasera con la doppia sfida quella tra Verona e Roma e poi Monza contro Bologna niente di queste sfide potrà intaccare il primato solitario della Napoli anche possiamo dire scaramanzia parte la prima fuga della stagione perché ieri Milan si è fermato uno stop pesante sul campo del Torino scende la squadra di Pioli per altra attesa da una settimana importante decisiva sul fronte Champions League ci sono altre indicazioni che arrivano in un campionato quanto mai avvincente guardiamo i bioritmi rossoneri non facevano presagire una delle modalità più negative della squadra di Pioli il Milan dopo la sconfitta con il Napoli aveva sempre vinto quattro partite in campionato con una ricaduta importante sotto l'aspetto mentale e se vogliamo aggiungere un dato statistico veniva da una striscia di 17 trasferte in cui aveva raccolto punti contro il Torino perfetto nella secondare il governo Juric anche segnali inquietanti della serata di Leao sostituito per disperazione il Toro si prende decisamente da tre quarti con la qualità e il dinamismo di Miranciuk e Vlasic che regala al compagno un assist a Glemur per il raddoppio questo Milan non può rinunciare alle geometrie di Ben Asser tenuto in panchina fino al settantesimo per esigenze di rotazione lo sonere riconoscibile è tenuto in vita solo per un errore arbitrale clamoroso sulla rete di Junior Messias Granata travolgenti e dopo il botto di Udine si ripetono con lo scalpo dei campioni in Italia il Milan perde contatto dalla capolista adesso distante sei punti e viene scavalcato dall'Atalanta che passa in scioltezza ad Empoli Gasperini stabilisce il record di punti dopo 12 giornate sono 27 con 8 successi si conferma un ottimo acquisto Luchman arrivato a 5 gol e sabato c'è la grande occasione del confronto diretto con il Napoli imbattuto in una giornata pesante per il derby d'Italia Juventus-Inter e quello cittadino tra Roma e Lazio il tema caldo e mediatico di queste ore riguarda l'esclusione della sfida di Milinkovic-Savic che sarà squalificato il serbo a rendi fide sali contro la serenitana lo aveva tenuto a riparo da cartellini fino al 64esimo con il risultato di 1-1 poi la difficoltà nella ripresa anche per la stanchezza ricoppa di fronte a un avversario organizzato e aggressivo che merita i tre punti stabilito il cambio con Luis Alberto con la conseguente ammunizione di Manganiello arbitro dal giallo facile un flop evidente sulla giocata di Milinkovic che si stava liberando del pallone se parlo mi danno sei mesi di squalifica tuona Sarri nel senso di frustrazione laziale restano le due reti mancate incredibilmente dall'incursore Vesino per il 2-0 e anche sul possibile 2-2 per la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia che non aveva mai perso in casa determinante l'ingresso di Cabral ad un quarto d'ora dalla fine fa spellere Nicolau e al novantesimo realizza la rete decisiva finisce 0-0 tra cremonese e udinese con i frulani che non vincono da un mese stasera si completa la dodicesima con Verona, Roma e Monza, Bologna già tutto fatto per il mondiale di Formula 1 che comunque vive le ultime gare della stagione il tenore non cambia il dominio della Red Bull regge così come la capacità di non sbagliare mai di Max Verstappen che in Messico conquista il quattordicesimo successo nell'anno solare agli altri Ferrari in primis non restano che le briciole Max Verstappen ha vinto guidando la sua maniera zannando ogni rettilineo aggredendo ogni curva gli altri piloti corrono lui vince sempre o quasi 14 successi in 20 gare in presa mai riuscita nessuno Schumacher e Vettel si sono fermati a 13 e non è finita qui perché al finale di stagione mancano ancora due gran premi Brasile il 13 novembre a Budabi la settimana dopo Verstappen che per l'occasione ha sfoggiato un casco d'oro in onore del secondo mondiale vinto tre settimane fa in Giappone ha trionfato in Messico driblando anche le polemiche degli ultimi giorni dovuti alla lieve sentenza sullo sforamento del budget da parte del team austriaco nel 2021 una partenza magnifica poi il solito campionario di pezzi di bravura a dimostrazione che Verstappen è forse l'ultimo pilota in circolazione in grado davvero di fare la differenza quando il livello tecnico delle macchine si equivale quando è il fattore umano a essere decisivo ieri l'olandese è stato perfetto nella prima parte di gara nel tenere dietro Hamilton non uno qualunque nonostante avesse gomme più usurate pilota perfetto macchina perfetta la Red Bull ha conquistato sedici successi su venti gare a quelli di Verstappen vanno aggiunte le due vittorie di Perez agli altri rimangono le briciole Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto rimandando ancora una volta l'appuntamento con la vittoria che manca da quasi un anno altro gran premio da dimenticare per le Ferrari Sainz quinto Leclerc ha chiuso sesto scivolando al terzo posto nella classifica del Mondiale scavalcato da Perez l'ultima vittoria del Monegasco risale al 10 luglio in Austria da quel momento le Rosse hanno innescato la retromarcia e ora anche il secondo posto nella classifica costruttori è in pericolo lo svantaggio della Mercedes si è ridotto a 40 punti abbiamo massimizzato il nostro potenziale ma siamo arrivati a un minuto della Red Bull il malinconico commento di Leclerc c'è poco da aggiungere da aggiungere ancora una notizia non è una buona notizia per i nostri colori riguardo al tennis e la salute di Matteo Berrettini che ha già saltato l'appuntamento di Vienna non disputerà neppure il torneo di Parigi-Bercy che prende via oggi il tenista romano che è sceso ora al quindicesimo posto del ranking è già fuori dalle ATP Finals e ancora alle prese con l'infortunio al piede quello che gli aveva creato problemi durante la finale persa a Napoli con Musetti il mio obiettivo è ora quello di rappresentare l'Italia alle finali di Coppa Davis ha sottolineato sui social Berrettini riferendosi dunque ai quarti in programma a Malaga contro gli Stati Uniti dal 24 novembre dunque ci fermiamo telegiornale finito vi lascio alla coppia Orsinger-Sappino per Tagadà e vi ricordo naturalmente l'appuntamento col telegiornale questa sera puntuale alle 20 se volete ci vediamo domani alle 13.30 una buona giornata e una buona settimana a tutti voi pa Nurse ciao 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 ciao